Clem, è ora di vestirsi come un vero abitante del vault. Farò del mio meglio, promesso. Vuoi scambiare un paio di cose? Ok. Ho bisogno di scambiare un paio di cose. Certamente. I nostri primi abitanti del vault. Ah, che emozione. Ora però, torniamo al lavoro. L'esercizio fisico è un'attività essenzialmente egoista. E invece di usare ogni ora e ogni minuto per soddisfare gli obiettivi della comunità, un abitante migliora il proprio corpo, oltre i propri requisiti minimi di tonicità. La Vault-Tec ha trovato la soluzione. Il Power Cycle 1000, mentre pedali, fornisce energia al vault. Una risposta efficace a un problema nemico della produttività. Agli insediamenti l'energia non basta mai. Precisamente. Il prototipo è lungi dall'essere perfetto. Ci sono stati vari incidenti durante la fase di ricerca e sviluppo. Anche il discorso dell'emoragia cerebrale è... Caricherò il progetto sul tuo Pip-Boy. Costruiscilo e collegalo a un terminale per impostare i parametri dell'esperimento. E fai lavorare Clem. Energia. A noi. E fai lavorare Clem. A noi. A noi. Ave清一下. Ma. A noi. A noi. A noi. A noi. Grazie a tutti